Cristiano Tognoli, ciao, crescendo, buongiorno, buongiorno, ciao, partiamo un po' da questa etichetta che tu ti porti addosso un po' da anni, di grande talento, di predestinato, che però nel Milan fondamentalmente non è mai riuscito ad emergirlo, forse non ti hanno mai dato una grande chance, ti chiedo quanto ti è pesata questa etichetta, se ti senti davvero questo grande talento, questo predestinato, oppure il grande talento? Ma allora, sinceramente devo ringraziare Milan per questi sei anni, però ringrazio anche Brescia per questa grande occasione anche per mettermi in gioco in una nuova realtà e per appunto, siccome è la prima esperienza tra i grandi diciamo, ho l'opportunità di crescere sotto vari punti di vista e poi sul fatto del talento non spetta a me dirlo, devo dimostrarlo in campo e devono dirlo appunto i tifosi e le persone che guardano le partite, io devo pensare a dare il massimo in campo e aiutare i compagni e appunto mettermi in gioco e crescere giorno dopo giorno perché mi ritengo giovane e appunto sono qua per crescere, questo. nasci anche allo scaravuzza più di tutto, nasci tre quartista dietro le due punte ma sei anche un esterno alto, un attaccante esterno, un 4-3-3, ti identifichi in questi due ruoli, ti riescono bene, c'è una preferenza per te? e allora nel corso della mia breve carriera ho fatto più ruoli, ho fatto da piccolo piccolo ho fatto la prima punta, dopo col passare dell'età ho fatto sia la mezzala che il trequartista dietro le due punte e giocando con due trequartisti per ciò alla fine comunque vengo da una società in cui non era tanto ruolo a fare la differenza ma come occupavi gli spazi insieme agli altri compagni perciò ovunque venga messo l'importante appunto è avere personalità nel giocare e trovare la giusta posizione in campo anche rispetto a come si muovono i propri compagni buongiorno il tuo arrivo a Brescia è stato abbastanza lungo e in parte legato a un altro talento di cui si parla per noi da un po' per altri da un po' che è Sandro Tonali ti chiedo come hai vissuto quei giorni di attesa ma allora è stato detto anche a me intorno a inizio giugno che c'era questa possibilità ed ero molto felice perché appunto ritenevo Brescia una bella piazza per crescere comunque ha una storia alle spalle e molta ambizione ogni anno alla fine costruisce una squadra per puntare alla promozione Serie A o alcuni anni comunque è stato anche in Serie A perciò per me era anche una questione d'orgoglio venire a giocare in questa squadra è stato per me un mese molto strano perché un giorno usciva una notizia il giorno dopo usciva un'altra notizia contrastante perciò dopo quando ho avuto la certezza che mi ha appunto chiamato il procuratore dicendomi che era stata chiusa appunto l'operazione ero molto felice e niente perciò è stato un mese un po' abbastanza movimentato Prossimo Prego Alberto Banzosa, Brescia Sport che obiettivi ti metti a medio termine? Ma a medio termine sicuramente personali c'è quello di crescere perché comunque è la mia prima esperienza tra i grandi e appunto vedo anche tanti miei compagni che sono usciti magari negli anni precedenti da Le Giovanini non è facile andare a giocare in una prima squadra dal settore giovanile quindi appunto è quello di crescere appena quando vengo chiamato in caso quello di mettermi, di dare sempre il massimo e appunto sfruttare le occasioni che mi vengono date perché alla fine è da quello che il tempo che ti guadagni in campo dipende dai minuti che fai, da come ti comporti quando vieni chiamato in caso appunto, lo devi conquistare Ciao, Gianpaolo da Franchi, Brescia Oggi, profeta dello sport Tobi Zaghi, che viene dal Milan, viene da quella mentalità di occupazione degli spazi una mentalità di centro, una mentalità portata all'attacco hai fatto un po' tutti i ruoli questo tipo di mentalità può aiutarti anche qui a essere un jolly anche per variare il tema tattico perché per esempio con te si può passare da 4-3-2-1 al 4-3-2-2 puoi fare una mezzana ma sicuramente, poi quello alla fine non spetta a me decidere il modulo, appunto il modo di giocare ovvio, seguo le indicazioni del mister, quello che vuole da me e cerco di farlo nei migliori dei modi poi sicuramente venire dal Milan è una società che nelle giovanili cerca sempre di giocare palla a terra l'occupazione degli spazi, quello aiuta ma aiuta secondo me tutti i ragazzi perché aiuta appunto a crescere sia tatticamente, tecnicamente perché ovviamente se giochi palla a terra più i palloni tocchi più cresci anche tecnicamente vedevo magari nel settore giovanile alcune squadre che preferivano il risultato al gioco e questo secondo me è sbagliato perché appunto quando si è piccoli è giusto sbagliare però comunque aiuta hai fatto un infortunio o di cosa si è trattato? allora ho scoperto di avere un'ernia inguinale però adesso per fortuna è piccolina adesso sto lavorando giorno dopo giorno appunto in palestra per cercare di arginarla e comunque adesso sto meglio e niente è stato un problemino alla fine da poco sembrava pubalgia però meno male è stata scongiurata questa ipotesi perciò meglio così una battutina eh nel 2005 hai rifiutato addirittura piazze importanti come la Juventus e Marcellona si diceva che tu sia un grandissimo milanista tifuso del Milan il fatto di ritrovare in Zali qui che sono per il Milan è stato sicuramente un giocatore importante insomma nel senso sei contento c'è un po' di Milan anche qui tra virgolette beh sicuramente quello fa piacere però alla fine è l'allenatore non veniamo trattati da giocatori non lo trattiamo come allenatore dopo nel Milan ho avuto anche la fortuna di allenarmi sotto quando c'era come mister Gattuso perciò ovviamente da milanista fa piacere appunto essere allenati dai tuoi beniamini di quando eri piccolino però comunque dopo quando sei in campo non pensi più a queste cose qua ma lo vedi proprio come una figura che ti può insegnare tanto e come un allenatore appunto bene facciamo insomma adesso le altre domande a Massimo direi insomma però che ti partiene da Gianluca e poi vi facciamo tutto giro grazie Massimo piacere piacere mio più o meno la terza domanda che ho fatto a Gianluca per te la riva Brescia è stata completamente diverso per lui un travaglio lungo per te una cosa brevissima dovuta anche al fatto della calizzazione del Chievo volevo che mi spiegassi un attimo bene come è andato? sì io vengo da 14 anni di Chievo ho fatto tutto il settore giovanile fino ad arrivare alla prima squadra e purtroppo dopo due anni ho dovuto cambiare squadra cioè non purtroppo per via di fallimento che ho dovuto cambiare squadra e quindi la scelta del Brescia è stata entusiasmante perché comunque è arrivata in un giorno quasi alla fine del calciomercato e quando ho sentito dell'interesse del Brescia sono stato subito entusiasmato e infatti il giorno dopo dell'incontro ho firmato subito e ho iniziato subito ad allenarmi con la squadra e mi sto trovando molto bene anche con i compagni ho subito fatto amicizia con tutti e devo dire che ho fatto la scelta giusta come è l'impatto dopo 14 stagioni con la stessa maglia a cambiarsi attentamente quello che era il tuo ambiente e hai trovato un ambiente totalmente diverso sì sapevo che un giorno sarebbe successo questo ed è arrivato quest'anno l'impatto a livello di qualitativo e di intensità non l'ho sofferto perché comunque anche al Chievo c'erano giocatori di qualità, di livello che hanno giocato in Serie A e quindi l'intensità era molto alta quella che sto trovando anche qua gioco con giocatori di livello che hanno giocato in Serie A e l'intensità è molto alta negli allenamenti e questo è un vantaggio per me prossimo da Paolo da Franchi perciò oggi grazie a te lo sport ben trovato puoi essere l'arma tattica in questa squadra te lo chiedo perché nelle prime uscite magari non sei stato più brillante ma sei stato fondamentale per il lavoro che hai fatto in mezzo e adesso puoi fare anche il terzino destro laterale destro ti rivedi in questo ruolo tattico utile per la squadra? sì negli anni passati ho già avuto questa esperienza da iniziare a metà campo e poi per motivi di mancanza nel ruolo di altri giocatori mi hanno spostato in un altro ruolo come terzino sicuramente è un vantaggio anche per il mister e avere un giocatore che può occupare vari ruoli io cerco continuità in quello che faccio perché fare le cose fatte bene è un conto farle quasi perfette è il mio obiettivo farle con personalità e cercando sempre di migliorare giorno dopo giorno col duro lavoro sì mi rivedo anche in terzino ho fatto anche il mediano l'anno scorso e l'esterno alto quindi come ho detto prima è un vantaggio per il mister però io cerco continuità in quello che faccio ti chiedo visto che è un momento comunque anche difficile questo per il calcio dove ci sono parecchi giocatori che rimangono anche senza squadra se una volta che hai fallito il Chievo perché poi fino all'ultimo si è cercato di salvarlo hai mai avuto paura di rimanere disoccupato di rimanere senza squadra? sì diciamo che il giorno del fallimento del Chievo fino a quando ho trovato squadra ho avuto un periodo un po' buio anche con me stesso perché comunque dopo 14 anni che sei in una squadra e ti ritrovi sì come dire sei disoccupato poi avevo un piccolo infortunio quindi avevo tanti pensieri per la testa nel momento in cui ho firmato per il Brescia mi sono tranquillizzato e ho lasciato questo periodo buio alle spalle sono contento grazie nella partita nella partita nella mechievole con il Venezia ti abbiamo visto parlando proprio come dicevi tu di cambio di ruoli obbligatoriamente come terzino destro perché mancavano due dei tuoi compagni Karacic e Manteido e hai fatto tra l'altro molto bene però forse il tuo ruolo più centrato è quella di mezzala di inserimento nella prima guerra tu facesti anche diversi gol quindi quando tu mi parli di continuità il fatto che è bello sapere fare diverse posizioni in campo quindi adattarsi però forse non è meglio ancora magari continuare in questa continuità proprio avere un ruolo ben definito sì esatto cioè quello che cerco io la continuità in un ruolo però se in caso di emergenza lo faccio volentieri per aiutare la squadra per aiutare il mister lo sanno anche loro che il mio ruolo sarebbe mezzala però non sono uno che crea problemi se mi mette in un altro ruolo certo voglio continuità però non mi lamento se per il cambio ruolo vuole una continuità di giocare o una continuità di cambiare ruolo è questo che volevo sì di giocare in un ruolo grazie spazio per un ultimo e poi lasciamo andare ragazzi se volete se posso io lo chiedo entrambi lo chiedo entrambi Brescia viene dato dopo le prime luoghi campionato come squadra tra le favorite vi chiedo da dentro come state vivendo questa cosa e se davvero avete l'impressione che Brescia sia una squadra forte per poter puntare stasera sì sappiamo che puntano a salire cioè puntiamo a salire però ovviamente c'è tanta competitività con le altre squadre che si sono rafforzate molto noi in Spogliatoio la viviamo tranquillamente sappiamo che dobbiamo lavorare duramente perché il campionato è lungo però questo inizio ci dà fiducia per continuare su questo percorso uguale secondo me anch'io sono la prima esperienza in B magari Massimo so più di me diciamo il valore delle altre squadre però secondo me abbiamo una squadra molto forte comunque abbiamo giocatori che hanno giocato in Serie A e comunque ci sono altre squadre molto attrezzate che hanno anche investito molto sul mercato perciò le concorrenti ci sono noi stiamo andando bene però alla fine sono passate solo due giornate ancora presto per dire a che punto siamo possiamo ancora crescere tanto e magari se ne riparlerà più avanti magari dopo la pausa di gennaio vedremo a che punto saremo in classifica lì ci sarà un quadro un po' più chiaro della situazione appunto personalmente questo salto dalla primavera cioè di livello è abbastanza importante come approccio personale come dici tu sono le prime partite più trovato poi come è stato per te come ti sei sentito ma alla fine la mia preoccupazione più grande era magari il ritmo partita tra la primavera e comunque i grandi però devo dire che mi sono trovato molto bene e comunque avere anche giocatori forti vicini ti aiuta molto secondo me perché appunto ti puoi sempre affidare ai compagni nel momento di difficoltà puoi far uscire puoi far vedere meglio le tue qualità e quindi mi sono trovato bene e sono anche tranquillo quando gioco e perciò mi sento molto bene grazie 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 grazie